Sono sei con 180 candidati le liste che sostengono Cosmo Tedeschi alle prossime elezioni del sindaco di Isernia. Isernia Lavoro, Officina delle Dei, Cittadini per Isernia, Progetto per Isernia, Isernia Popolare e Uniamoci per Isernia. Tutti uniti per Isernia e chiaramente per Tedeschi. Oltre al senatore D'Ambrosio, noi siamo seguiti, vi prego, ascoltate, da altri deputati, da altri senatori, da consiglieri regionali, da presidenti, ex presidenti, cioè da tutti siamo seguiti. Allora, siccome questa cosa loro dà fastidio, ci stanno attaccando, vogliono metterci ancora fango, vogliono cacciare su tedeschi altre cose. Ma questo non è corretto, non è corretto. Intanto noi siamo difesi, cioè la città si è divisa con queste sei liste, ok? Sei liste civiche. Significa, caro direttore, che sono 180 candidati, allora noi, che voglio dire, rispetto alla domanda che lei mi ha posto, dico, non è che noi teniamo una parte di persone e un'altra no, noi siamo aperti a tutti quanti, alle migliori forze, i sernine, perché alcune persone della mia squadra mi hanno detto, Cosimo, prenditi le migliori menti, ok, le migliori professionalità, che siano di destra o di sinistra, dissidenti o non dissidenti, perché poi su questo ci sta molto da parlare, non è discorso dissidenti, cioè che sono stati bravi ragazzi che hanno ragionato con la propria testa, hanno avuto la libertà di scegliere, di andare avanti le loro idee, ok? E questi stanno con noi, nel momento in cui stanno loro tutti con noi, abbiamo fatto squadra e siamo diventati forti, quindi siamo diventati un po', come si dice, un po' da ostacolo a loro, perché poi questa cosa poi andrà avanti anche alla regione, andrà avanti a tutti, cioè questo è il ragionamento, perché mi vogliono stoppare con forza? L'imprenditore con ambizioni politiche nel presentarsi alla stampa non ha avuto peli sulla lingua, soprattutto nei confronti del governatore Frattura. Per il costruttore, ci si può giurare, è il presidente della regione, il nemico pubblico numero uno di Sernia, e solo lui può tenergli testa, parola di tedeschi. Il presidente Pier Simoni, dobbiamo di questo, perché avete dato in mezzo il presidente della Camera di Commercio, il presidente ha fatto un lavoro lodevole alla Camera di Commercio e penso, dopo tutto quello che ci hanno tolto a Sernia, ci hanno tolto tutto, ci hanno tolto pure la Camera di Commercio, cioè questa è una cosa inaccettabile, poi questa cosa, su queste cose, io mi accaloro molto, perché non è possibile, qua dobbiamo fare una battaglia insieme per ridarci le cose che ci hanno levate. I Sernia, di cos'altro, vi siete presi le poste, l'Inps, l'Ina, tutte le dire, ma lasciateci la Camera di Commercio, no? Non è corretto che andiamo solo noi a Campobasso, è preferibile pure che qualche volta vengono loro ai Sernia. Infine, anche qualche parola su un PD che continua ad apparire, sembrare ed essere un teatro dei misteri. Infatti, nella sala, sentire tedeschi diversi esponenti di peso del Partito Democratico. Per fare un esempio, il neopresidente della Molise Dati, Maurizio Cacciavillani, oppure esponenti importanti della società civile, Isernina, come l'ex presidente della Camera di Commercio, Pasqualino Pier Simoni, oppure come l'ex senatore, Alfredo D'Ambrosio. E con loro, tedeschi, ha chiarito il ruolo di Rita Formichelli, che a suo dire è il vero candidato di Paolo Frattura. Frattura è andato, è andato, allo studio di Formichelli, ok? È andato allo studio di Formichelli per convincere Formichelli a candidarsi. Formichelli è la candidata di Frattura, di ruta. Ma loro sono di Campobasso, che c'è in una condizione? Vi prego, lasciateci tranquilli. Cioè, la nostra città, sappiamo noi le persone che devono amministrare, non dovete decidere voi, ok? Ok? Allora dico, poi, tedeschi non andava bene per loro, per Frattura non va bene tedeschi, ok? Per ruta e leva non va bene tedeschi, perché sono tre mesi che mi hanno detto che ti devi dire a Dio, la motivazione è stata, devi andare sul listino, tu sei bravo alla regione. Cioè, siccome io non sono la persona che viene appesa per il filo e fa le cose che dicono loro, ok? Io non sono la persona che poi sta là e dice, sì, signor, sì, Frattura.